ieri abbiamo lanciato discord che è una piattaforma di discussione del progetto e diventa un po il nostro punto di riferimento per lavorare al progetto non per promuoverlo è aperta a tutti quindi è permissionless come tutti i buoni progetti decentralizzati ed è separata in argomenti al momento vedete alcuni canali dove discutiamo per esempio è partita molto la discussione sull'acquisizione clienti è un canale dedicato a come acquisire i clienti sono già venute fuori delle belle idee ne ho pinnati un paio cioè le ho bloccate in alto qui ok e tra l'altro anche remunerato in punti diciamo chi ha avuto l'idea perché questo software vuole registrare la qualità e la quantità dei vostri contributi che poi verrà in futuro trasformata in token e quindi potenzialmente in denaro in criptovalute ok abbiamo vari vari canali ce n'è uno generale dove si mette un po tutto ciò che non ha ancora spazio però vi chiedo di indicarci canali nuovi che volete aprire perché se ci sono argomenti che mi stanno particolarmente a cuore apriamo subito il canale e spostiamo la conversazione lì sarà una cosa abbastanza moderata nel senso che evitiamo appunto di avere troppe troppi messaggi in un canale che poi sono difficili da seguire e cercheremo sempre di creare degli spazi specifici per ogni per ogni discussione un'altra delle caratteristiche di questo software molto interessante è che ci permette di automatizzare la i punteggi che misurano appunto la qualità degli interventi delle persone e anche di fare dei canali specifici per esempio abbiamo creato un canale core dove non c'è nessuno dove inviteremo delle persone particolarmente coinvolte nel progetto che hanno piacere di di essere ancora più coinvolte insomma e c'è anche un canale per domande su discord cioè su come funziona questo software eccetera eccetera una volta raggiunti i presi dei punti più avanti questi punti verranno tradotti come ho detto in in criptovalute questo è un modo per misurare la qualità e la quantità dei vostri interventi cerchiamo appunto di evitare l'effetto facebook dove si fa si tende a fare un più rumore che altro e cerchiamo di essere molto diciamo precisi e con un occhio proprio la creazione di un di un progetto più che discutere di cose poco poco diciamo concrete e c'è una sezione amici che io penso che possiamo evitare tranquillamente perché non mi pare non ho capito se serve essere amici siamo tutti amici qui dentro quindi andiamo tranquillamente ci sono messaggi diretti cerchiamo di utilizzarli solo se se necessario qualsiasi cosa dobbiamo un attimo discutere assieme ecco basta non mi viene in mente altro potete iscrivervi seguendo il link che troverete sotto questo video e per domande ci sentiamo qua rimane in piedi il gruppo facebook più che altro per per chi preferisce stare un po sul sul vago inizialmente venite qua quando volete proprio collaborare non è proprio un posto per fare domande e basta si viene per per cominciare proprio a creare il white paper lo scopo finale di questa di questo software nella fase attuale è prendere quel white paper che ho scritto nei vari mesi poi ho migliorato e cominciare a migliorarlo con l'intelligenza collettiva quindi tra un mese o due vorrei avere un white paper quindi un progetto piano ben preciso su che tipo di portale vogliamo creare e come portare avanti il progetto in generale bene grazie e ciao